Consigliere Laricchia? Perché scappa? Consigliere Laricchia? No, no, risponda. L'ILVA non doveva chiudere, consigliere Laricchia. Abbiamo promesso la progressiva chiusura delle fonti in Italia. Però è aperta, è aperta l'ILVA. Guardate, un'altra che scappa, consigliere regionale Laricchia. Consigliere Laricchia? Perché scappa? Consigliere Laricchia? No, no, risponda. L'ILVA non doveva chiudere, consigliere Laricchia. Abbiamo promesso la progressiva chiusura delle fonti in Italia. Però è aperta, è aperta l'ILVA. Guardate, un'altra che scappa, consigliere regionale Laricchia. Consigliere Laricchia? Perché scappa? Consigliere Laricchia? No, no, risponda. L'ILVA non doveva chiudere, consigliere Laricchia. Abbiamo promesso la progressiva chiusura delle fonti in Italia. Però è aperta, è aperta l'ILVA. Guardate, un'altra che scappa, consigliere regionale Laricchia.